fratelli bianconeri e non buonasera a tutti voi juventus lazio 2 a 0 la partita non mi è piaciuta per niente ma per niente proprio sono stato a sedere fino adesso ma non mi sono assolutamente divertito una squadra remissiva una squadra che ha lasciato per molti minuti la palla in mano alla lazio che bisogna dire che se anche non ha tirato in porta praticamente mai comunque è stata una juventus che ha fatto veramente una grandissima fatica una grandissima fatica per cui devo dire bocciati assolutamente ma non i giocatori perché i giocatori più o meno la partita l'hanno giocata tutte discretamente bene non mi piace il gioco juventus assolutamente bocciata per quanto mi riguarda da rivedere assolutamente ma soprattutto da rivedere una cosa che io non ho capito perché la formazione iniziale a me non è assolutamente piaciuta ma per niente proprio allora dobbiamo cercare di capire qual è il ruolo naturale che dovrà avere cristiano ronaldo nella juventus perché secondo me cristiano ronaldo e manzukic insieme non possono giocare per me a meno che manzukic non faccia la punta centrale quello che è l'unica cosa che deve fare invece anche oggi spesso e volentieri l'ho visto sulla sinistra allora se gioca a sinistra perché tanto manzukic con Iguain davanti giocava a sinistra giocava ma Iguain davanti è un numero 9 ok quindi avere un manzukic vicino ci sta bene manzukic anche se ha fatto il numero 9 è comunque un giocatore che non è proprio un numero 9 classico non è un tre seghe per capirci o non è un pipita ecco per capirci secondo me far giocare manzukic e ronaldo insieme a me piace poco l'idea sinceramente io preferisco vederlo giocare con bernardeschi da una parte e da glascosta dall'altro se devo giocare in questo modo e giocare senza punta centrale magari con dibala perché lo preferisco sinceramente non la formazione di oggi non mi è piaciuta è giusto fare le prove siamo a inizio campionato va tutto bene oggi posso dire soltanto incameriamo questi tre punti che come si dice dalle parti di casa mia fanno carne e sangue però sinceramente sono abbastanza deluso da questa partita non mi è piaciuta assolutamente non ho visto grinta non ho visto rabbia ho visto fatica molta molta fatica a tenere la palla qualche passaggio sbagliato di troppo per carità non voglio essere troppo critico con i ragazzi ci mancherebbe altro però io mi aspetto delle juventus molto diverse da questa anche perché lo ripeto ormai da una vita perché ormai vi ho fatto una testa così se tu giochi in europa in questo modo te la coppa dei campioni non la vincere mai cristiano ronaldo o no questo è un dato di fatto questo non è il modo di giocare in europa in europa devi attaccare 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 questo è l'unico modo lasciare la palla in mano agli avversari per 50 minuti dove fanno quello che vogliono in italia te lo puoi permettere perché sei il più forte fai quello che vuoi ma in europa scusate il gesto ma ti fanno un mazzo così in europa ti fanno un mazzo così se giochi in questi modi quindi questo non si discute purtroppo noi sembra che questo questo diavolo di mentalità da italiani non la vogliamo cambiare va bene vediamo spero io spero sinceramente in coppa dei campioni di vedere una juventus diversa non spero di non vedere una juventus come questa perché veramente mi farebbe imbestialire vedere delle partite del genere mi fa veramente imbestialire vi giuro io alla fine del primo tempo volevo cambiare canale mi sarei guardato una telenovela piuttosto dynasty la fanno ancora cioè veramente sono partite che non mi divertono non mi piacciono non mi diverte non mi diverte non mi diverte assolutamente spero ripeto di vederne poche così perché sarebbero veramente poche le partite che guarderei durante questo campionato a me piace il calcio però io nel calcio mi voglio anche divertire partite come queste non mi divertono anzi mi fanno soltanto arrabbiare basta detto questo non sono assolutamente preoccupato del fatto che cristiano ronaldo non segni ronaldo di donne farà anche troppi non è quello che mi preoccupa come dico a me interessa che cristiano faccia i gol giusti e non sono certamente questi per quello che posso aggiungere a questa partita i giocatori si sono comportati più o meno devo dire tutti bene sono stati bravi sono stati il pubblico ovviamente ha apprezzato perché quando esci con una vittoria ovviamente apprezzi demon non ha apprezzato mi dispiace io sono un tifoso esigente a me piace vincere però mi piace anche divertirmi alle partite e come mi sono divertito poco domenica col verona col chievo verona mi sono diventito ancora di meno oggi con la lazio sicuramente la lazio dal canto suo ha fatto la sua partita ha giocato ben abbottonata quadrata in zaghi ha messo in campo una bella formazione la lazio è palesemente inferiore alla juventus questo lo si sapeva però ciò non toglie che le partite vanno giocate tutte vanno vinte noi abbiamo vinto la seconda partita del campionato devo fare i complimenti alla juventus li faccio ma sicuramente non sono contento di quello che ho visto ciao a tutti